buongiorno e benvenuti a medicina 33 o buona sera rendiamo omaggio a italiani in fiamme come la brillante scienziata fabrizio che ha aiutato il virus ebola a dare alla luce la sua bimba nello spazio o come l'astronauta orgocampioi di cultura che ci parla di fabrizio nello spazio e che dire di cui gli italiani lanciatisi a soccorrere la criminalità organizzata sulla rotta tra lo spazio e lo spazio siamo dotati siamo dotati o ebola a tutti e bisogna occupare lo spazio non dimentichiamolo vorrei un cappello grazie ancora e desidero dirvi subito suga complessi altamente impegnativi non non